Andiamo qua a Willy, è il nostro una serie di trucco, che annuncia, recupera e deposita. E' importante la macchetta, è strano anche che quei soldi da pagare sono un po' genovesi, adesso io vado a casa, guarda proprio, prendi più, sei grande abbastanza, facciamo sempre il giro, non abbiamo abbastanza da pagare, guarda tutti, è questo il problema, allora piedi guarda, ci mettiamo qua, un po' di fianco all'altro, di questa striscia, proprio qua, guarda, bellissimo, di fianco all'altro, allora, prendi le mani così come faccio io, politicamente, Andrea, ascoltami bene, adesso è importante, non avvassare le mani, stai sempre fermo. Allora, con le mani, non direi se è verso il futuro, i gruppi siamo responsabili e depositari per raccogliere il volo, che è il pappagani del sole. I pappagani del sole, i pappagani del sole, fanno sempre il gruppo, a una nascita sono tutti bene e con il vento diventa parlano di come il sole, loro sono i bellissimi colori, bellissimi e coloratissimi. Facciamo un bel applauso, ragazzi. Grazie. Cominciato poi, Artù. È bellissimo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.